La conformazione di questo cantiere è veramente complessa. Questa è un'opera puntuale, è il deposito, verranno realizzati circa 13 edifici, però c'è tutta una linea che è veramente complessa e articolata. Allora, qui davanti a me c'è un attacca a terra, una planimetria di progetto del cantiere, del deposito di Borgo Panigale. Allora, una particolarità del progetto sicuramente è l'attenzione al verde. Da questa parte c'è questa grande fascia verde che contiene la sede trambiaria che incontra la città. Il verde viene portato sugli edifici perché poi sono alcune delle coperture stesse degli edifici a contenere questi giardini pensili e quindi diciamo che sicuramente da parte dei progettisti l'attenzione all'ambiente non è mancata in questo caso.